Il passo è naturalmente subito, fin da subito deciso, sembra forse... Spis Ulrich davanti a fare il ritmo, anche qui tanti giovani molto forti a interpretare i 600 maschili, Spis Ulrich davanti, quindi con un gruppo ancora indefinito di atleti dietro come è normale sia. Spis Ulrich, nelle fasi iniziali di gara, ma gara che subito inizia e subito finisce perché è molto veloci, 600 metri, vediamo ancora Spis Ulrich del Stutti Roller Loggeline, a fare il ritmo per tutti. Spis Ulrich, alle sue spalle atletica Trento, Mirko Tomasi, atleta del 99, della categoria Allievi. Quindi Junior, un amicchio che va a chiudere davanti a tutti, 600 metri, poi Tomasi, poi a seguire Andrea Terrani della Valsugana Trentino e via via questa fila di atleti, Spis Ulrich, dai più giovani fino anche ai master che vediamo impegnati anche in questo momento come a Marzanoni, al traguardo ora e Mauro Bianchi e con Luciano Moser della Valsugana Trentigrana. Ricordo che la nostra intenzione è mantenere l'orario di svolgimento della manifestazione.